11 milioni provenienti dal governo e destinati alle aree a rischio idrogeologico. Luciano D'Alfonso elenca ogni stanziamento deciso sul territorio regionale, annunciando dapprima l'arrivo di una prossima tranche sempre dal governo e lanciando poi un monito a chi, prima di lui, non ha saputo pianificare un controllo capillare sul territorio. La buona amministrazione prima di tutto mette in sicurezza il suolo. Da presidente della giunta regionale ho conosciuto la debolezza del suolo e del sottosuolo dell'Abruzzo, la dispersione delle acque, la sua friabilità, la sua fragilità. Era necessario mettere in campo un programma importante di mitigazione del rischio idrogeologico ma anche di fronteggiamento delle criticità che noi abbiamo ereditato. Certo, faremo anche una norma che concerne il consumo zero del suolo. Noi, attraverso questo insistente programma di circa 217-218 milioni di euro abbiamo coperto per adesso il 70-75% delle emergenze. Tra le novità introdotte da Luciano D'Alfonso un nuovo portale Regione dice, Regione fa, all'interno del quale sono presenti tutte le attività in svolgimento, i fondi stanziati e le iniziative tra le priorità del territorio è consultabile da cittadini e addetti all'informazione. Adesso scatta un'altra fase che è quella del controllo della qualità e della quantità dei lavori perché sono talmente tanti che adesso c'è il problema di controllare la qualità esecutiva dei lavori. Quello che è certo è che, anche dando seguito al lavoro che sta facendo Mazzocca con i consiglieri anche della Commissione, ci doteremo anche di una norma che blocchi il consumo invasivo del territorio.